Ci siamo tolti di dosso un po' di peso e adesso ce la godiamo, stiamo bene, siamo una bella soddisfazione. Era l'obiettivo per il quale siamo partiti, per il quale abbiamo lavorato duramente, l'abbiamo raggiunto con tre giornate d'anticipo, con tanto vantaggio sulle dirette inseguitrici e questo ci dà soddisfazione perché gratifica il lavoro. Ma ognuno è fatto a modo proprio, io sono una persona che non ama condividere con gli altri i propri pensieri, quindi è semplicemente questo, ma io sono felice, sono contento perché... È stato un anno più che pensieri, forse, no? Sì, sì, l'è stato d'animo, ma anche i pensieri, però sono contento perché è per me una crescita professionale, fare un anno qui, allenare un anno qui, mi ha fatto crescere tanto, mi avete fatto crescere voi, mi hanno fatto crescere il contesto, mi hanno fatto crescere i miei giocatori, il mio direttore, quindi è normale che sia felice, però so bene che speriamo che sia un punto di partenza, non un punto di arrivo, ma soprattutto per il Bari e poi anche per me.